E siamo al clou di questo pomeriggio dopo premiazioni in pista con targa di podromi partenopei, anziani, fila completa in otto dove non ardete per il momento al totalizzatore il più borbottato, mezzo meccanico in movimento. Si ritrae non partecipa Noir imitato da Oxford Street, benissimo a rete gli altri, via la macchina in velocità, chiusura, emerge Robin Cuff con al largo Rory Macbaba, poi Positano Dete e il Baba chiede strada, 200 in 13 e 2, sta passando il Baba, interviene Osiride Dor, si va al completamento della piegata, punta in avanti la targata Dor, chiede strada, sarà un freeway, 28 e 9 freeway per l'Osiride che dopo 500 metri da 1 e 11 scarsi è al comando. E ora lunga fila indiana con Noir Dete che dalla coda mette il nasino al vento, 43 e mezzo da 1 e 12 e mezzo questi 600 e ora l'alfiere dei gemellini cicchia cicca cerca di graduare dopo lo strappo iniziale, 59 e 2, 15 e 7 di frazione, da 1 e 14 ora si viaggia e di fronte Noir si migliora gradatamente, chilometro se ne va in 1, 13 e 7, 14 e mezzo di frazione, Noir copre Robencaf e poi valsa al Chi del Baba, Osiride al comando, la frazione di fronte in 14 e 2 fanno 1, 27 e 9, 3 quarti di miglio e Noir incumbe ora su Osiride, pedinato come un'ombra da Oxford Street. Prosegue Noir Dete, attacca Osiride Dor, si prepara Oxford Street, Manini dolci, a largo ci prova, a largo interviene Positano, lotta incerta e sul palo Positano Dete, stampa Oxford Street, 1 e 57 e che bell'arrivo, e che bell'arrivo signori, Mario Minopoli Junior e Vincenzo D'Alessandro Junior onorano questa corsa con un arrivo. A sensazione! La spunta il francesino, proprio sul palo, il targato Ete, nei confronti di Oxford, terzo uno stoico Noir Dete che ha girato sempre all'esterno e tutti a Positano stasera, tutti a Positano, 5,92 la quota, sempre una delle più belle stagioni di Positano, sono i migliori bagni estivi, Capri e Positano. Linea alla regia.